Ciao ragazze, ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, ben ritrovati con un nuovo video tag, perché ormai questo è il periodo dei tag, perché siamo a casa, abbiamo più tempo, siamo proprio in tenuta casalinga, oggi il tempo è proprio pessimo, c'è piove, c'è freddo, quindi una pessima giornata, dobbiamo rimanere a casa, dobbiamo trascorrere in qualche modo il nostro tempo e quindi quale miglior occasione per i video tag che insomma ci fanno conoscere, anche perché in questo momento non potendo uscire, insomma, non faccio neanche grande spesa, né shopping, quindi né vestiti, né make up, insomma, che vi facciamo vedere? Perlomeno io parlo per me, poi magari qualche altra cosa arriverà, però intanto facciamo dei video tag così ci conosciamo, gli argomenti sono vari, insomma, che ben vengono. Allora, è il video tag sulla moda, questo video l'ho visto sia sul canale di Annalisa, sul canale di Scarlett81 e sul canale di Serena, Sere Channel, che oltretutto mi ha taggato, grazie, insomma, a Serena per avermi pensato, un bacio, un bacio anche alle altre ragazze che l'hanno girato. Allora, è un tag che mi piace perché devo dire che a me la moda piace, sono modaiola all'80%, però mi piace, è un argomento che mi piace. Allora, domanda numero 1. Che stile ti piace? Gucci o Dolce & Gabbana? Allora, permesso che non ho né un capo di Gucci e né un capo di Dolce & Gabbana, però, insomma, mi è capitato di guardare le sfilate e, insomma, lo stile di Gucci devo dire che mi piace. Sobrio, ma allo stesso tempo al passo coi tempi, dinamico, versatile sotto certi punti di vista, altri no. E quindi diciamo che lo preferisco, insomma, a Dolce & Gabbana, anche se poi Dolce & Gabbana sono comunque due persone molto simpatiche, e due, insomma, stilisti alla portata, ecco, molto pratici, però Gucci, insomma, per me sarà una mia preferenza particolare. Domanda numero 2. Tacco o sneakers? Allora, un tempo anche per andare a lavorare, tacco, che poi non parliamo di tacco vertiginoso, parliamo, insomma, di un tacchetto così, a volte anche quadrato, nello stivaletto o nella zeppetta, quindi un attimino più alto. Ultimamente vado sul comodo e quindi lo sneakers, anche perché la sneakers ormai è diventata una scarpa che va bene sull'elegante, sportivo, casual, insomma, lo puoi abbinare un po' come vuoi, è più comodo, è più pratico e quindi, insomma, va bene per lo sneakers. Numero 3. Borsa a spalla o a tracolla? A spalla, a tracolla, a zaino, a marsupio, come volete voi, purché sia borsa. Io adoro le borse, ho quelle da portare a braccio, le ho a tracolla, le ho in tutti i modi e quindi le preferisco entrambe, cioè porto sia quella a tracolla tanto quanto porto quella a braccio, non ho una preferenza o a spalla, ecco. Domanda numero 4. Pelliccia o cappotto? Allora, sicuramente cappotto, perché comunque sia non sono per la pelliccia, oltretutto se parliamo, cioè, voglio dire, di animali, non esiste. Quindi preferisco cappotto, assolutamente. Anche se un tempo era molto in voga la pelliccia. Domanda numero 5. Mini gonna o longhet? Nessuna delle due. Io posso contare le volte che in vita mia ho messo una gonna, forse da piccola perché mi obbligava mia madre, ma io non amo le gonne. Se proprio dovessi metterla, longhet, cioè, ormai il tempo della minigonna è passato. Domanda numero 5. Jeans o pantaloni? Jeans tutta la vita. Cioè, il jeans è un capo che non può mancare veramente nel mio, ma credo in nessun armadio manchi il jeans. Ne ho tantissimi, ne ho di tanti modelli, di tanti colori ed è veramente il mio capo d'abbigliamento preferito. Domanda numero 7. Quante scarpe hai? Allora, era più imbarazzante se mi veniva chiesto il numero di borse. Scarpe? Ma, 10 paia. Sì, tra, insomma, sneakers, qualche stivaletto, un anfibio, una decina di paia, sì. Ah, c'è anche la domanda. Quante borse hai? E questo è bello della diretta. Non avevo letto neanche, cioè, non mi sono proprio preparata le risposte. Quante borse hai? Non ho, ce ne ho tantissime, cioè, non so darvi un numero. Anche perché non le butto, quindi le raccolgo praticamente da quando ho iniziato a portare le borse da ragazzina. Infatti ho in garage ho due cassata anche proprio piene di borse perché io non riesco a buttare una borsa. E quindi ce ne ho un numero veramente vario. Ultimamente, però, devo dire che mi sono dato da calmata, cioè, ultimamente, vuoi forse un po' per la frenesia, per la mancanza di tempo, strano, ma, ma vero, utilizzo più spesso un tipo di borsa, che magari è una tipologia di borsa un po' più grande. E quindi, ultimamente, ne sto comprando meno, però, devo dire che ne ho veramente tante, cioè, non so dirvi un numero, non so dirvelo. Domanda numero 9. Ti curi molto nel vestire? Sì. Allora, devo dire che se ho una ricorrenza, quindi un ricevimento, un matrimonio, un diciottesimo, insomma, una ricorrenza, ci tengo assolutamente a fare figura. E fare figura non significa avere un abito che costi centinaia di euro, puoi prendere anche un semplice abitino al mercato, ma, sapendolo portare e abbinando gli accessori giusti, può diventare un abito che fa figura. Però sì, ci tengo, certo. Numero 10. Brillantini, quindi pagliette, sì o no? Sì, con moderazione, cioè, soprattutto sì, ma no. Sono ovviamente sparati su look giornalieri, o perlomeno, che so, su una t-shirt, qualche brillantino, qualche strass sparso, o un bordino, un filamento di perle, allora sì. Oppure su qualche, ho una sneakers dove praticamente il dietro è tutto fatto con le pagliette, allora sì. Ma una cosa esagerata, soprattutto di giorno, no, non mi piace. Domanda numero 11. Abbini sempre gli accessori? Sì, cioè, ragazza, sono una dannata. Io abbino sempre gli accessori, cioè, se io ho una giacca verde, ho il blazer verde, che penso che l'avrete visto anche in altri video, io poi a quel blazer, cioè, parto da quel blazer e poi abbino gli orecchini, abbino l'anello, se non è l'anello è la collana, se non è la collana è la borsa, se non è la borsa è calzino, ma avrò sempre qualcosa di verde, ho la cintura che mi va a richiamare, diciamo, il capo dal quale parto. Quindi sì, mi piace abbinare sia gli accessori che i colori fra di loro. Comunque gli accessori sì. Numero 12. Scegli tre capi che ti fanno sentire fashion. Allora, jeans, perché comunque sia che li metti con una t-shirt e un blazer sopra, sia che li metti con un top anche in pizzo, o vedo non vede, insomma, hanno il suo perché. Quindi sicuramente jeans, sicuramente il blazer, perché è veramente un capo che ho rivalutato negli ultimi anni tantissimo. E poi, insomma, dei body, se vogliamo, dei sottogiacca, avete presente tipo quelle bralette che si intravedono sotto le giacche, quelle mi piacciono, insomma, ti fanno sentire un attimino più femminile, se vogliamo, nel look. Domanda numero 13. Cosa non ti piace vedere negli altri? Allora, negli altri non mi piace vedere quei capi che oggettivamente tu riconosci, e che poi secondo me lo riconoscono anche loro stessi che lo portano, che non ti sta bene. Cioè, vedere una minigonna di una donna che ha una coscia, insomma, molto muscolosa, formosa o altro, solo per il piacere di mettere la minigonna, non mi piace. Perché in quel caso non vieni guardata perché hai una bella gamba, perché la sai portare perché ti sta bene, ma vieni guardata perché vieni criticata. Oppure tutti quei jeans a vita bassa, stretti stretti in vita e poi magari fuoriesce un po' di fianco, cioè, queste cose per me, per quanto mi riguarda, non sono belle da vedere. E non perché una cosa si porta la devi mettere a ogni costo. Ci sono ad esempio queste gonne lunghe, plissettate, con elastiche in vita, che, cioè, facciamone una ragione, non è una gonna che possono portare tutti. Io non la metto assolutamente perché, cioè, sembra un pallone, sembra una ruota che gira, non lo so, io la prendo su di me. Ma se la dovessi vedere indosso una persona longilinea, alta, magra, ha il suo perché. Ma se la devo vedere su di una ragazza che è un attimino più rotondetta, per carità, nelle forme giuste, che però viene vista come oggetto di critica. Cioè, ma guarda, ti sta male, lo vedi che ti sta male dai fianchi, lo vedi che ti fa sembrare molto più, più grassa. Ecco, soprattutto oggi che viviamo in una società dove per queste cose veramente ci si sta male per quello che riguarda l'aspetto fisico, per come ci si appare. Allora, se al minimo possiamo anche, diciamo, venirci incontro con gli indumenti giusti, adatti al nostro corpo, secondo me siamo a posto, veramente. Domanda numero 14, ultima, quindi. Tull sì o tull no? Tull sì, solo in alcune, ad esempio come bordino, io avevo una magliettina che aveva le maniche fin qui e poi avevo un piccolissimo bordino in tullo che la rendeva più, insomma, un attimino preziosa, graziosa, ecco. Ma gonne in tullo, maniche in tullo, altro, no, 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 non mi piacciono. Il tag sulla moda finisce qui. Non so chi taggare perché bene o male in questo periodo, insomma, tutte le ragazze che conosco, penso che a giro lo stiamo facendo tutte questo tag. Per cui lo lascio libero, se a qualcuno piace, ha voglia di farlo, che ben venga. Io vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo alla prossima. Ciao!